Se non ci fosse un cambiamento di posizione da parte della Lega in queste ore, il Presidente Formigoni ritiene sbagliatissimo portare la Lombardia ad una campagna elettorale di sei mesi. Quindi il Presidente Formigoni, in piena sintonia con il popolo delle libertà, si muoverà per andare al voto in tempi il più ristretti possibile. Maroni aveva dichiarato, ho presente il filmato, la Lega è soddisfatta perché ha ottenuto l'azzeramento della Giunta, adesso abbiamo il dovere di governare. Questo è stato contraddetto dal deliberato del Consiglio federale di sabato che ha posto una data di scadenza per questa nuova Giunta. Dicendo che vogliamo che si voti anche per la Regione Lombardia il 7 di aprile, ma questo significa una campagna elettorale di sei mesi. In un momento difficilissimo per il Paese, difficilissimo per l'economia, fare una campagna elettorale di questa lunghezza sarebbe devastante per la Lombardia.